Musica Eccoci a Telebelluno Agenda, vediamo le proposte per giovedì 30 gennaio. Sarà fruibile al pubblico anche nella giornata di giovedì 30 gennaio, a partire dalle ore 9, la mostra dal titolo Le Madri e i Padri, fondatori dell'Unione Europea. Una mostra ospitata nella Sala Presidenza di Palazzo Piloni e che sarà aperta al pubblico fino al 21 febbraio prossimo. Veniamo adesso ad altre iniziative previste in questo caso per venerdì 31 gennaio. Il fototrappolaggio selvatico è un metodo ampiamente utilizzato nello studio di specie animali elusive. Il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi lo utilizza nelle proprie attività di studio e monitoraggio della fauna. Per presentare al pubblico alcuni progetti in corso che utilizzano tale tecnica, è stata organizzata una serata divulgativa che è prevista per venerdì 31 gennaio alle 18 a Feltre, presso la Sala Ocri, in via Negrelli 7, sopra la farmacia dell'ospedale. Si parlerà in particolar modo di gatti selvatici, martore e lupi. E veniamo ad un'altra iniziativa. Vi parlo in questa occasione della proposta che viene fatta dall'Associazione Culturale Centro UPM di Belluno, che propone per la giornata di venerdì 31 gennaio, a partire dalle 20.30, una conferenza con la presentazione del libro di Viviana Pressic, dal titolo Tutto quello che vuoi sapere sulla nascita, il misterioso viaggio di una nuova vita. L'appuntamento è aperto a tutta la popolazione e si terrà, appunto, come detto, alla Sala Una Noce in via Barozzi 18 a Belluno. Noi abbiamo concluso così con quest'ultima segnalazione, il nostro momento odierno di Tibi di Agenda. Arrivederci. Grazie.